Percepiva il reddito di cittadinanza ma non ne aveva il diritto. Le fiamme gialle della compagnia di Pesaro hanno identificato un cinquantenne residente nel territorio di Vallefoglia che per due anni ha percepito indebitamente l'aiuto economico destinato alle persone in difficoltà senza un lavoro. I militari nelle indagini hanno scoperto che l'uomo aveva una situazione patrimoniale al di sopra dei limiti previsti dalla legge. L'esito del controllo ha messo in luce una situazione economica diversa da quella documentata visto che il cinquantenne ha deliberatamente omesso di riportare nella dichiarazione sostitutiva unica il calcolo delle esee del 2019 e del 2020 le vincite avute con i giochi online per un ammontare di 60.663 euro e 111.136 euro. Questa mancanza ha consentito così all'uomo di percepire nel 2019 e mantenere nel 2020 il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di 12.708 euro. Grazie al controllo degli uomini in divisa il cinquantenne è stato segnalato sia alla procura della Repubblica di Pesaro per aver percepito soldi a danno dello Stato che all'Inps per il blocco dell'erogazione e recupero dell'indebito incassato. Questa attività rientra tra le funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e mira a controllare il corretto uso delle risorse pubbliche assicurando che l'accesso alle egevolazioni o esenzioni avvengano a favore di quelle persone che ne hanno veramente diritto e bisogno.